Benvenuti a una nuova puntata di 8 secondi, in compagnia di Don Claudio Colombo, il padre spirituale dell'Uiba, e del nostro Cesare Cadeo. E noi ne approfittiamo per salutare anche il nostro presidente Giuseppe Pirola, che oggi, vedete, non è in studio con noi, ma è in giro per il mondo, per viaggio di lavoro. E dunque, saluti presidente, naturalmente l'aspettiamo qui con noi in studio per parlare sempre della grande palla a volo, come piace sempre a lei. Allora, cominciamo subito con Cesare. Il punto sul campionato è abbastanza facile a questo giro, Cesare, perché Novara batte Conegliano 3 a 1 riguadagna la vetta e scaccia la crisi. Sì, esatto. Anche se devo dirti che è la squadra che forse il Conegliano mi ha deluso di più un po' in questo apparte di campionato, perché credevo onestamente che avesse qualche chance in più di trovarsi in posizioni di classifica diversa. E per quanto riguarda questa partita posso già dare delle notizie, se ti va Novara Conegliano, rivedenza alla giovane centrale dell'Igor, Sara Bonifacio, 12 punti e 64% in attacco e pensate, ben 5 muri personali su 9 totali della squadra. Giulie Pisani, piccole Giulie Pisani crescono. E poi l'opposta di Novara Samantha Fabris ha segno 25 volte con il 50% in attacco su 46 palloni attaccati. Nel Conegliano, grande prova del libro, Mocchi De Gennaro con il 60% di ricezione perfetta. Ecco, dicevamo che Novara ha ganciato in vetta Casal Maggiore, ma l'altra sorpresa è appunto il crollo della formazione della POMI a Modena. 3 a 0, un risultato tondo tondo. E dove spicca fra l'altro Valentina Diouf, che pensate in decisiva, con ben 13 punti e ancora protagonista la centrale Raffaella Folì con il 64% in attacco. Ecco, Don Claudio, numeri da capogiro. Sì, 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 vedo proprio che c'è un campionato bello vivace e bello tosto e quindi sarà sicuramente bello seguirlo e di giornata in giornata lasciarsi coinvolgere da questi risultati. Ecco, ma l'altro risultato a sorpresa, che però a questo punto non è più una sorpresa ma una certezza, è il Club Italia, Cesare, che batte 3 a 2 Bergamo. L'avevo previsto. E come da pronostica l'avevi previsto. L'avevo previsto, è stata una partita davvero emozionante, entusiasmante, proprio al tie-break, si dice così, al tie-break, e devo dirti che le ragazze, io credo tantissimo all'iniziativa del Club Italia per lo spirito, per la politica dello sport, del volley, in questo caso del volley femminile in particolare, per cui sono stato contento, anche se io, avendo sempre avuto nella mia vita tanti amici, anche parenti a Bergamo, un po' la Fopa Pedretti, insomma, mi è spiaciuto. Però, devo dire, complimenti davvero a Club Italia, gente scatenata ancora al Pala Yamamai per questa... ormai davvero è diventato il centro, secondo me, del volley italiano, il Pala Yamamai. Ecco, invece, Don Claudio, la vittoria dell'Uiba, dell'Unendo Yamamai-Bustarsizio, a Firenze sabato nell'anticipo, 3 a 1, 3 punti d'oro in trasferta. Esatto. Io ho detto ai miei parrocchiani di mettersi alla televisione, tifare, sintonizzarsi su Rai Sport 2 e tifare le farfalle. I primi due set sono andati via belli lisci, un po' di palpitazione al terzo, ma poi dopo è uscita la grande levatura delle atlete dell'Unendo Yamamai e quindi si è riusciti davvero a portare a casa la vittoria. Ecco, possiamo parlare di spiritualità del gioco anche? Ecco, lì, proprio in un momento in cui poteva essere facile demoralizzarsi dopo il terzo set perso, dove il Bisonte Firenze ha dato davvero segno di riprendere in mano un po' la partita, ecco, si è ritrovato proprio il clima di squadra e questo sicuramente ha aiutato, anche perché il quarto set erano lì punto a punto e poi si è proprio uscita questa unione da parte della squadra e ha fatto un parziale di 4 a 0. Mi fa specie sentire Don Claudio Colombo che parla, neanche forse a Viero Giannico, tecnicamente di Palavolo. Sì, esatto, tecnicamente di Palavolo, straordinario. Vedi, i sacerdoti veri, i moderni, sono così, sanno parlare anche di Palavolo. Qualche numerino, Cesare? Certamente te li do immediatamente. Dunque, allora, Firenze Busto, Turlea da una parte con 23 punti e la Crasta Love, la mitica, con 25. Il muro di Busto ha messo a segno 14 block in, di cui 6 di Giulia Pisani. La mia adorata Giulia, brava Giulia, brava. Oramai la Giulia Pisani ogni partita fa sempre una raffica di muri. Sì, di fatti, ma è brava, Giulia è brava. Ecco, poi c'è invece Vicenza che sbanca 3 a 2 il campo di Bolzano e qui Vicenza dimostra di essere una squadra in salute. Sì, in salute e soprattutto, secondo me, è una squadra che è partita, dimmi Piero se sbaglio, un po' così, no? Poi dopo che ha preso la batosta. Bravissimo, hanno reagito e anche qui lo spirito di squadra, l'idea, la forza, l'idea di stare insieme nel momento di difficoltà, poi i risultati arrivano. Non c'è niente da fare. Mi ricordo un'altra squadra che è partita in un certo modo, ma in questo momento se la sta cavando bene, che è il mio Dorato Milano. Ma scherzo. Certo. E poi chiudiamo, ecco, il punto sul campionato con la vittoria di Montichiari, la Dorato Montichiari di Cesare, sempre te black contro Scandicci. Esatto, qui pensate, è in evidenza la ricezione di Montichiari. che gira in maniera perfetta al 58%, nello specifico Luna Carocci con il 69% e Barcellini con il 64%, mentre in attacco la Sobolska ha chiuso con il 69%. Nello Scandicci, da segnalare, Judith Patterson, autrice ai 20 punti e la Nicolova con 20 punti anch'essa. Ecco, Don Claudio, qual è invece il ruolo del padre spirituale all'interno di una struttura sportiva e nello specifico dell'Una? Allora, per quanto riguarda la presenza di un prete o della, appunto, la figura del prete in una squadra che può essere di calcio, cioè sono squadre che hanno il padre spirituale, la pallavolo, dice questo interesse della Chiesa nel vivere a livello educativo, questa passione che ci può essere anche nel valore di praticare lo sport puntando ai valori dell'aggregazione, ai valori del rispetto dell'avversario, ai valori del mettere davvero il massimo impegno nei ragioni di risultato. Per quanto riguarda la mia figura nella Unendo Yamamai, è ancora appunto da studiare, sentendo il Presidente e i suoi collaboratori, ma vuole essere davvero la vicinanza di una persona ecclesiale, visto che sono un sacerdote, la vicinanza agli atleti, ma anche agli stessi, stesse figure dell'organigramma della società, poter vivere questo aspetto di un richiamo spirituale. Ecco Don Claudio, sei favorevole al ritorno della pallavolo in questo caso, ma dello sport nell'oratorio? Sì, 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 perché guardando la mia piccola esperienza, noi in oratorio abbiamo una polisportiva con tre settori, calcio, la pallavolo che aggrega un centinaio di ragazze con allenatori, allenatrice, dirigenti e da quest'anno abbiamo anche una squadra di basket e quindi è fondamentale nell'oratorio il valore educativo dello sport. Per far sì che non succedano le scene come di recente nel calcio, dei genitori che si sono picchiati fra di loro e udite udite gli atleti erano i loro bambini, erano i loro figli, questa la dice lunga su quanto lavoro c'è ancora da fare. E allora abbiamo fatto una carellata importante su quello che è stato il punto del campionato, però c'è stata una giocatrice che questa volta ha dato davvero il meglio di sé, ha schiacciato le polemiche, Noemi Signorile. Il Noemi Signorile è veramente una ragazza che ha avuto, credo che al di là del lato tecnico e anche umano, ha questo senso del coraggio, è una donna coraggiosa. Io allora a lei volevo dedicare questa piccola poesia della puntata e vorrei dire a Noemi Signorile, Noemi senti, questa frase di Klaus, di von Klawitz, di Carla von Klawitz è per te. Von Klawitz è stato un grande genio teorico prussiano e dice il coraggio di due specie, quello fisico davanti al pericolo personale e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità è verso la propria coscienza, riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto, credo che Noemi Signorile ha dimostrato di avere un coraggio perfetto. Prossimo turno, allora siamo ovviamente in chiusura, Busto Arsizio Montichiari? Busto. Don Claudio? Concordo, concordo in pieno. Conegliano Club Italia? Club Italia. Club Italia anch'io, d'accordo. Bergamo Piacenza? Piacenza. Bergamo. Scandici Novara? Novara. Novara perché è la presidente del Novara, è una suora, quindi suor Giovanni. Eh beh, non poteva essere diversamente. Poi Vicenza Modena stavamo dicendo? Vicenza Modena, Vicenza. Vicenza, sì. E poi invece giovedì si gioca Casal Maggiore Bolzano nel posticipo. E allora prossimamente ti dirò il risultato visto che è un posticipo, postici però anche il mio giudizio. E allora siamo nel periodo della natalizia, abbiamo Don Claudio, la benedizione è d'obbligo? Ah, di sicuro. La do con tutti i crismi, eh. Con tutte le... Certo, la sentono i nostri telespettatori. E vi benedica Dio Nipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie. Grazie a tutti, ovviamente puntata un po' particolare, con Don Claudio. Grazie di rinvitare. Che lo rinvitiamo volentieri, disponibilissimo. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti